Dire che i due teos non sono uguali, cioè non sono uguali nel senso che non parlano della stessa persona, ma i due teos vogliono identificare Dio e vogliono dire che la parola è Dio da un punto di vista di essenza. Il fattore di guardia mostra di conoscere bene la differenza tra teos, qualità e teos, natura e senza, perché vediamo che nella traduzione dell'87 ancora rendeva Colossesi 2.9 con qualità divina, qualità divina, traduzione dell'87, mentre poi diviene a più retti consigli, nello stesso versetto, nella previsione del 2017, appunto troviamo, 2017, sì, Colossesi 2.9 e lui infatti che risiede tutta la pienezza della essenza divina, cioè di cui parlava il nostro amico prima, essenza divina, vedete, qualità, essenza. Dov'è la differenza? La differenza è nel dire che una cosa è di qualità divina, che può essere anche un buon piatto di spaghetti, e dire che invece è una cosa per natura, per essenza. Certo, sono concetti greci, ma il greco è la lingua che la provvidenza ha scelto per diffondere i principi cristiani, i principi della teologia, i principi della salvezza. Anche in questo caso possiamo dire che rientra nella scelta di Dio, è insindacabile l'uso di una lingua o di un'altra. Evidentemente l'ebraico non avrebbe potuto esprimere le sfumature, le profondità di quello che è il mistero di Dio, non perché sia qualcosa che non appartenga alla Bibbia, la parola misterio, perché in greco è misterio, quindi noi traduciamo semplicemente dal greco anche qui ciò che sono le profondità, che una parte Dio sia degnata di rivelarci. Possiamo pensare di comprendere appieno Dio, essendo noi nella condizione creaturale, quindi di una infinita distanza tra noi e Dio e fra Dio e noi. Ma qualcosa lascia tra parare del suo essere e ci sta dicendo Giovanni 1.1 che il figlio è della stessa essenza appunto divina del padre e quindi in questo senso Dio come il padre, non un'altra divinità minore che a lui si affianca ma è esattamente sullo stesso piano del padre quanto alla sua essenza natura divina, non qualità. Abbiamo visto appena ora la differenza di traduzione della stessa torre di guardia. Quindi l'unica costruzione greca che Giovanni poteva usare per distinguere questi due teos dicendo non sono la stessa persona ma tutti e due sono Dio, quindi il Dio e il secondo teos che ha la qualità di essere Dio era soltanto questa, quella che noi troviamo appunto in Giovanni 1.1. I fatti dimostrano che la torre di guardia nasce proprio col proposito dell'adorazione di Dio Onipotente e di suo figlio Gesù Cristo. Questo lo si può leggere tranquillamente nell'annuario ad esempio appunto del 45 dove viene riportato il testo dello statuto che vi faccio vedere proprio nella riga dove dice che questa società nasce per vari intenti, per lo studio della Bibbia, per mantenere i miscenari, per supportarli nella loro missione, eccetera, dice, and the public Christian worship of Almighty God and Christ Jesus e per la pubblica adorazione cristiana di Dio Onipotente e di suo figlio Gesù Cristo. Ma attenzione, un fatto curioso, quando questo testo viene citato negli anni successivi, vedete la traduzione a fianco, per la pubblica adorazione cristiana di Dio Onipotente e di Gesù Cristo, questo è lo statuto originario dell'attore di guardia, ma attenti bene. Quando lo statuto viene citato negli anni successivi, come vedremo fra poco in una rivista del 72, vediamo cosa succede. La pubblica adorazione cristiana di Dio Onipotente per mezzo viene aggiunta, tra parentesi quadre, almeno all'uturo ne sta di mettere la parentesi quadre, di Cristo Gesù. Quindi la congiunzione della pubblica adorazione cristiana di Dio Onipotente e di Cristo Gesù viene sostituita da questo per mezzo. Siamo nel 72 e quindi c'è stato questo passaggio, questo svilimento della parola di Cristo Gesù, che è parola di Dio, dicevamo Giovanni 1,1, che invece, essendo della stessa natura divina del Padre, merita pari adorazione insieme al Padre. Grazie. 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 Grazie.